Buongiorno, l'avevamo detto negli scorsi giorni che era necessario fare un blitz perché i miei appelli sono rimasti inascoltati da parte di alcuni cittadini, turisti e quindi stamattina siamo qui e stiamo facendo un blitz in spiaggia con la polizia municipale e i nostri operai per liberare la spiaggia, visto che la spiaggia è di tutti, alcuni forse pensano che il pezzettino dove mettono l'ombrellone diventa l'oro nel periodo estivo, ma in realtà non può e non deve essere così, è un segnale di civiltà, è un segnale di correttezza che ognuno deve seguire, vedete sono in spiaggia che stanno rimuovendo gli ombrelloni e quindi da stamattina la spiaggia è libera, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto, ci aspettavamo onestamente che immediatamente ci fosse un segnale da parte dei cittadini, in tal senso alcuni lo hanno seguito, altri invece no. E quindi siamo qua, siamo qua a completare il lavoro e ovviamente continueremo a fare questi controlli nell'arco dei prossimi giorni perché ripeto, la spiaggia è di tutti e quindi deve essere lasciata libera, ci sono i vidi, quindi qualcuno se vuole andare e avere l'ombrellone già piantato in spiaggia può andare tranquillamente al lito, ma la spiaggia libera è di tutti, quindi un segnale di civiltà e tutti devono rispettare le regole. Buona giornata!